beh ragazzi bentornati in questo nuovo video tutorial su CD Not Included oggi faremo la centrale elettrica fino adesso abbiamo croccato quello che potrebbe essere una mini centrale qui ma l'obiettivo ne abbiamo già parlato di metterla al di fuori della base abbastanza lontano quindi il mio consiglio è di metterla in una zona abbastanza fredda e magari anche in alto perché in alto avremo bisogno di macchinari cavi pesanti eccetera eccetera quindi io di solito la metto in alto e adesso vediamo un po come farla allora ho sfruttato la massima cantizia che è 96 caselle se voi andate su stanze per entrare elettrica 96 quindi voi vi fate i piani io in questo caso ne ho fatti quattro che per iniziare va bene poi se ne può aggiungere un altro un altro sopra o sotto adesso vediamo ma diciamo che quattro piani da 96 più un mini piano da 2 lo tengo per i liquidi per lo scarico adesso lo vediamo allora il piano in alto di solito metto il giratore di etrogeno ma prima di quello andremo a mettere siccome questa sarà la centrale definitiva andremo a mettere anche la stazione di controllo che oltre a farvi diventare la stanza centrale elettrica se voi volete vi boosterà vi potenzierà l'energia della vostra centrale o come funziona con come funziona con la stazione di cultura stessa roba il vostro meccanico andrà qui con il metallo rifinito come vedete qui creerà dei microchip che andrà a mettere dentro i vostri generatori e invece di generare vediamo 800 vi genera adesso non mi ricordo quanto era potenziato mi sembra 1200 non vorrei dire cavolate comunque un bel po' di più quindi andremo a metterne anche tre volendo ma anche tre di questi poi di solito metto sopra l'idrogeno perché l'idrogeno non ha scarichi non ha non scarica h non scarica gas non scarica niente quindi lo metto più in alto possibile poi metterei il gas allora il gas vediamo un po' metterei il carbone anche se poi non lo utilizzate non si sa mai per emergenza lo teniamo mettiamo il carbone poi mettiamo il gas gas quasi quasi lo metterei sotto ci sarebbe anche l'inceneritore ma l'inceneritore se volete mettetelo potete metterlo insieme al al carbone o sotto l'inceneritore funziona con la legna quindi se voi avete gli alberi quelli per la legna potete usare l'inceneritore ma io di solito non lo uso perché ho un sacco di danidride e genera poco mi sembra 300 quindi bah non lo so quindi vabbè facciamo così il gas lo mettiamo qui e un altro consiglio se ce l'avete ma solo se ce l'avete costruiteli già in amalgamadoro quindi se potete già fatelo in oro invece che in rame e al piano sotto possiamo già montare il petrolio anche se ancora siamo lontani decidete voi se montarlo prima o tenerlo vuoto al limite se non avete il petrolio e comunque state lontani da averlo potete fare due piani di idrogeno o due piani di gas in base a quello che avete di geyser quindi magari da adesso lasciamolo vuoto o al limite ce lo mettiamo giusto per far vedere un po' tutti i vari vari generatore anzi facciamo così li metto tutti metto due petrolio e un inceneritore così ce li abbiamo proprio tutti ok anche se mischiarli non è mai una buona idea però va bene così inceneritore vabbè lo lasciamo così per sport allora una volta montati tutti i vari generatori ovviamente andremo a montare una batteria smart ovviamente allora qui ovvero ce lo mettiamo attaccato in base a quello che vogliamo fare dopo con i cavi e adesso ve lo faccio vedere vicino poi dopo lo spostiamo ok e qui andiamo a montare qui stesso discorso possiamo farlo con i cavi ad alta tensione o addirittura con il cavo ad alta conduttività se avete tantissimo rame rifinito fatelo direttamente con questo perché porta più voltaggio e sono anche più belli non diciamo che danno danno meno decoro negativo ma ehm non vi cambia niente cioè nel senso voi lo fate così inizialmente funziona uguale non cambia sono solo più belli e hanno più portata questo da 20 kilowatt questo da 50 quindi insomma quello sempre in base potete anche farlo così e dopo lo potenziate più avanti non è un problema io ve lo faccio normale così da parte quello ok con le batterie ovviamente che andremo a collegare con l'automazione a tutti i generatori voi dite ma che ci faccio con una batteria in realtà quella batteria non serve per accumulare energia ma serve praticamente per comandare la stanza ehm del generatore cioè nel senso quale far partire prima e quale dopo lo decidete in batteria come farlo forse già l'abbiamo visto allora quello che volete che lavora di più ovviamente dovete mettere la soglia bassa molto alta cioè se voi avete l'idrogeno ne avete tanto o comunque è la risorsa che riuscite a creare più facilmente andrete a mettere non so 75 99 che diciamo quello che metto io più alto dopo l'idrogeno che cos'è che avete di più il gas benissimo mettete sempre 99 e mettete 65 ok quindi che cosa succederà quando la batteria scenderà a 75 partirà questo e tutto il resto non partirà se non scendere sotto quella soglia ovviamente se avete un carico di energia molto alta e di butta giù la batteria questi non ce la faranno a tirarla su entrerà in gioco la seconda linea di generatori che in questo caso è questa qui quindi poi magari mettiamo che ne so il carbone perché magari il petrolio non ce l'abbiamo mettiamo il carbone a basso 45 sempre 99 potrei scriverlo ok e che ne so quest'ultimo che per adesso non ce l'abbiamo magari poi arriverà un momento che poi vedete più petrolio che il carbone mettete alzate un po' questo e abbassate il carbone insomma poi decidete voi qui mettiamo 25 per adesso ok l'abbiamo attaccati ovviamente vi andate ad attaccare il generatore idrogeno va attaccato al tubo dell'idrogeno ovviamente se voi lo state creando qui ve lo dovete portare è un po' più scomodo però una volta creato la tubazione che va su insomma non è un problema voi vi prendete l'idrogeno che prendete qui e ve lo portate su anche qui possiamo fare in due modi che sono tutte e due buoni uno costa un po' più di energia l'altro costa un po' più in tubi in realtà quindi la primo metodo è prendervi i vari gas separatamente cioè questo è l'idrogeno ve lo portate su ve lo spara direttamente dentro il generatore di idrogeno andate a prendere non so il gas naturale eccolo qui ve lo portate su e lo infilate dentro la tubazione del gas naturale eccetera eccetera però potremmo fare un tubo unico che sale tubo unico che sale io ultimamente sto facendo con i tubi separati io ultimamente sto facendo con i tubi separati perché sto andando proprio a risparmio di di risorse di gas eccetera questo ve lo andate a sparare dentro quindi per il gas dovrete fare un'altra strada questi andiamo a collegare insieme e quindi poi vi dovete fare il ponte scendere giù e andarvi a prendere il gas ok ci siamo presi il gas naturale altrimenti un altro metodo che potevamo fare è prendere un tubo solo buttarci tutti i gas dentro quindi l'idrogeno il gas lo buttiamo tutto qui dentro tutto mischiato ovviamente poi questo lo smonteremo arriveranno tutti i gas su e poi con i filtri ci andiamo a prendere quello che ci serve è un buon metodo anche questo costruite meno meno tubazioni quindi qui entrerà il tubo entra il tubo continua il tubo qui lo stacchiamo vi faccio vedere al volo facciamo così lo facciamo prima ok quindi la tubazione continua però qui viene filtrato il gas naturale e ci andiamo a prendere il gas naturale lo buttiamo dentro questi sono due metodi sono buoni tutte e due ragazzi decidete voi in base all'energia che volete usare perché questi insomma consumano risparmiamo un po' di energia non mettendoli però dobbiamo fare più tubazioni come abbiamo visto vedete voi questa una scelta che lascio a voi perché magari ognuno la gestisce un po' come vuole però sappiate che avete tutte e due le possibilità fare un tubo solo con i filtri o fare più tubi decidete voi l'idrogeno non c'è bisogno di niente come abbiamo già visto si butta dentro l'idrogeno e basta gas naturale purtroppo è buono perché vi da 800 ma butta fuori anidride fortunatamente con i tubi non come il carbone il carbone vabbè l'abbiamo già visto mettete dentro il carbone vi butta fuori anidride così nell'ambiente invece questo vi butta fuori anidride tramite tubo che voi potete andare mettere in un tubo stoccarlo potete stoccare l'anidride ok perché poi ci sono motori per i razzi che vanno anidride quindi magari è buono anche stoccarlo oppure lo buttate direttamente fuori nello spazio nel vuoto così l'anidride verrà essere tolta diciamo dalle balle il petrolio ma questo magari lo vediamo più avanti comunque ha bisogno di petrolio rifinito ma questo poi lo vedremo più avanti quindi ci andrà buttato dentro il liquido petrolio rifinito magari ce lo possiamo già preparare così ok allora però oltre a questo il gas butta fuori acqua come vedete qui ha un ha un piruletto e poi ora lo andate a costruire ve lo dice allora requisiti effetti acqua sporca anidride energia calore temperatura ok quindi vi butta fuori anidride acqua sporca e acqua sporca ma acqua sporca ve la butta fuori così quindi quello che andiamo a fare andremo a mettere delle piastrelle spugnose più o meno sotto a questo scarico qui ovviamente anche sotto lo andremo a fare che sennò vi allagherà sotto e se non sbaglio anche questo anidride acqua sporca infatti mi ricordavo bene anche questo butta fuori acqua sporca quindi non sono messi a caso questi sono messi insieme perché tutte e due buttano fuori acqua sporca ma adesso non mi ricordo magari per sicurezza lo facciamo anche tutte e tre le caselle sotto al petrolio perché non mi ricordo dove scaricava però mettendo le spugnose state apposto butterà l'acqua giù e andrà a finire nella nostra vasca che poi potrà essere riutilizzata quindi potremmo già preventivare preventivare una pompa Vallea allora un metodo per gestire il cablaggio potrebbe essere visto che adesso stiamo utilizzando molta più energia andrei subito a fare il max trasformatore il max trasformatore è come quello normale però regge fino a 4 kilowatt anche se poi il cavo effettivamente regge 2 kilowatt quindi beh comunque è più potente quindi andremo a montare direttamente questo più potente qui c'è un problema calcolato male i spazi forse perché non ho preventivato l'inceneritore prova che ci sta perfetto questo lo spostiamo leggermente più a sinistra anche se è brutto da vedere però qui anche se in realtà poi qui non ci dobbiamo più andare magari inizialmente per costruirlo lo utilizzeremo la porta quindi a limite portatevi il tubo fino a qui magari fino a di là qua visto che lì abbiamo già un tubo dell'acqua vi fate già un bel cavo ok interruttore così questa è pronta e noi in realtà questa possiamo smontarla se ne frega niente questa sarà una vasca che gestiremo dall'interruttore quindi rispostiamo ok ovviamente andremo a montare magari qui delle piastrelle delle piastrelle da aspiranti che qui genera la nitrite carbonica perfetto la nostra centrale più o meno è finita potremmo mettere dei compattatori qui per il carbone e in teoria vediamo se l'hanno fissata questa roba potremmo già mettere uno spazzino per il nostro carbone vediamo perché se non ricordo male non funzionava però è un po' che non lo provo lo provo insieme a voi appena mi mettono il carbone qua vediamo allora una volta montati i trasformatori voi potete buttare giù i cavi con calma perché vi servirà un sacco di materiale vi andate voi avete quattro linee da poter sfruttare quindi scendete intelligentemente vedete la base è così cominciate da magari quello di su lo portate di qua e scendete questo lo portiamo di qua e scendiamo sempre dentro i muri ok questo scendiamo da qui e questo scendiamo da qui voi avete quattro linee da 2 kilowatt da sfruttare andrete a collegarli qui in base alle vostre esigenze e avrete 8 kilowatt di cavi che potete usare un altro metodo che è molto interessante che sfrutta che consuma meno risorse secondo me è quello ve lo faccio vedere al volo io l'ho usato un paio di volte portarvi il cavo magari di qua in questo modo mettete la giunzione perché sennò non vi fa entrare così perfetto allora al di fuori della base quindi più o meno qui voi potete ovviamente adesso sto facendo tutto creativo è molto più semplice voi c'è traete qualche ciclo in più però è solo per farvi vedere scendete giù con il cavo pesante e invece di portarvi i cavi giù singolarmente andremo a fare una cosa molto interessante ecco per esempio qui una volta arrivati qui magari un po' più giù e andate a riprendere i vostri piani perché noi siamo sempre fissati con i piani ok così anche qui vi lascio scegliere a voi sono tutte e due buoni metodi però base anche all'estetica di come volete dare mettete i trasformatori li mettete direttamente qui fuori dalla base però e non si vede poi qui chiuderemo vedete? stessa storia invece di metterli qui li mettete qui il cavo lo prendete e lo mettete giù lo attaccate e poi avete i cavi sotto non cambia niente a livello tecnico diciamo a livello di energia cambia solo a livello che userete meno cavo rifinito se usate ovviamente il cavo di alta tensione che questo serve un minerale di tamere normale quindi poi già ce l'avete vicino alla base semplicemente così si magari non sta nelle zone fredde però insomma l'importante è che vi sta fuori dalla base poi qui lo potete chiudere tranquillamente così anche con piastrelle isolate volendo e ok avete le vostre trasformatori questa cosa ha dei vantaggi anche grandi direi perché voi il cavo lo portate fino a giù continuate ad andare giù e quando andrete ad esplorare le zone sotto petrolio e cose varie avrete l'energia a disposizione perché vi portate giù il cavo vi montate giù il trasformatore e avrete delle energie portate a mano quindi pensateci perché è un buon metodo questo e un'ultima cosa volante ve la faccio vedere al volo ragazzi va a volo a volo perché il video è già uscito lunghissimo sotto la stazione della centrale potete farvi una stanza di tutti i macchinari che vi servono pesanti potete metterci la vostra raffineria di metalli visto che poi qui avete acqua anche se è un po' calda magari se avete un guider qui vicino è meglio però potete anche buttarci l'acqua a 20 gradi 25 gradi non è un problemone vi mettete vi mettete la raffineria la raffineria di metalli la cucina del vetro anche se questa poi la andremo a vedere nel prossimo episodio facciamo il vetro e i pannelli solari che è molto importante e possiamo mettere più avanti la pressa per fare la plastica potete mettere il desalinatore se avete un grater vicino insomma tutti i macchinari che hanno bisogno di tanta energia poi una fornace e altre cose pesanti questo perché? perché noi abbiamo il cavo a portata di mano quello qua bello qua pronto e ci attacchiamo direttamente così non abbiamo problemi di di limiti eccolo qua belli pronti anzi qui ho sbagliato potevamo montare direttamente quello grande possiamo mettere anche lo spaccarocce qui dov'è? quello qua ma non mi c'entra eccolo qua tutti i nostri macchinari a portata di mano qui possiamo montare direttamente il cavo pesante così non abbiamo problemi ci andiamo a prendere direttamente l'energia da qua ok questa è la nostra bella centrale vedete ragazzi che vi sarà molto utile questa cosa qui e avrete tutto al di fuori della base l'energia tutta concentrata in un punto e ripeto vi sarà molto utile e ci siamo dilungati anche troppo per un video del genere e spero che il video vi sia stato utile che vi sia piaciuto se è così lasciate un bel mi piace un commento iscrivetevi al canale se ancora non è fatto noi ci vediamo al prossimo video bella